Potrebbe essere frutto di una controversia fra i Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia, al bancato pagamento degli stipendi, al personale assunto nella scuola per fronteggiare l'emergenza Covid. Si parla di 245 bidelli, 190 docenti di scuole dell'infanzia, 46 di scuola primaria, 37 dalla secondaria di primo grado, solo in provincia di Alessandria, ma altri se ne sono aggiunti ultimamente, protagonisti di una brocazia che ancora una volta la fa da padrona, fra contratti equiparati a supplenze brevi e intoppi nella procedura dei pagamenti. Almeno l'80% da settembre ad oggi non ha ancora percepito un euro e qualcuno ha dovuto rinunciare il contratto considerando che le spese per gli spostamenti erano maggiori degli introiti. Da più di un mese le organizzazioni sindacali provinciali sono al lavoro per far valere i loro diritti, organizzando tavole di confronto e incontri, sollecitando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, impegnando anche il prefetto Iginio Olita a fare la sua parte. Dopo un recente incontro a Palazzo Chilini, al quale aveva partecipato anche la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale per Angela Dagna, sembrava che la situazione potesse sbloccarsi, con la sollecitazione presso la ragioneria di Stato per accelerare l'iter di emissione dei fondi, che ad oggi però non sono ancora arrivati, portando all'esasperazione totale il personale scolastico e costringendo le organizzazioni sindacali a scendere sul piede di guerra. I lavoratori sono furiosi, ha sottolineato se rinnamorando della FLC CGL, che ha promesso di dar battaglia con i colleghi Giovanni Guglielmi della Will Scuola, Maria Grazia Vodellini dello SNALS, Carlo Cervi della Cise Scuola. Quest'ultimo ha manifestato l'intenzione di passare alle maniere forti. Si parla di una possibile causa contro il MEF. Ne parleremo nell'assemblea di lunedì prossimo, ha assicurato Cervi, ma adotteremo sicuramente qualche strategia forte, perché non possiamo più aspettare. Pensare di addire a vie legali ci sembra a questo punto l'unica soluzione, ha continuato il segretario generale CISL Alessandria Marco Ciani, che unita ad altre iniziative come il flash mob che faremo sotto al provveditorato potranno portare i frutti sperati. La CISL ha inviato poi una lettera ai parlamentari alessandrini perché si facciano sentire a Roma, mentre l'assessore all'istruzione della regione Piemonte Elena Chiorino si è rivolta direttamente al ministro Gualtieri. Il pericolo è che i lavoratori assunti per l'emergenza Covid a questo punto decidono di lasciare in massa gli incarichi, un'eventualità che alcuni istituti della provincia cercano di scongiurare, anticipando somme cosiddette solidali, piccoli prestiti che, come ha specificato Maurizio Cavandini dell'Istituto Comprensivo di Valenza, verranno restituiti una volta ottenuto il primo salario. Chi lavora ha il diritto di essere retroibrita, ha continuato il dirigente scolastico, che ha anticipato anche piccole somme di tasca propria. Le mobilitazioni non si calmeranno finché gli stipendi non saranno pagati, ha concluso Serena Morando della CGL, che incontrerà nuovamente i lavoratori nell'assemblea del 5 febbraio via web.